Il ragazzo in casa non può stare, assolutamente, perché se qualcuno dell'amministrazione lo vuole tenere qualche giorno in casa, io glielo porto, glielo faccio tenere e vediamo, la regione si deve far carico, la regione, la provincia, la EAS, si devono far carico di questo. E anche il comune con l'amministrazione. Sittin di protesta questa mattina a Molfetta in piazza, tutto il personale ma anche i genitori e i familiari dei diversamente abili che frequentano il centro polivalente chiuso dal 1 agosto in attesa che si sciolga il nodo legato alla giudicazione definitiva del servizio. Una chiusura ed una decisione presa dal commissario prefettizio del comune che nei fatti ha lasciato per strada da una parte i lavoratori, dall'altra le tante famiglie che oggi si ritrovano a subire con parecchie difficoltà questa scelta. Davanti a una situazione del genere di un centro di sabili dove ci sono 40 di sabili in questa struttura da anni, avevo inoltrato richiesta di incontro nel lontano 31 maggio 2016 e ad ora non ci ha ancora convocato. L'unica cosa certa è che dal 1 agosto il centro di sabili è stato chiuso dal comune di Molfetta e oggi ci ritroviamo 40 di sabili fuori in mezzo a una strada e in più 21 lavoratori che assistevano questi di sabili senza lavoro dal 1 agosto. Noi oggi siamo a protestare contro il comune e il commissario che non ha avuto la sensibilità di ricevere i genitori, le famiglie e l'organizzazione sindacale e gli operatori perché oggi 21 operatori vanno a casa, non hanno stipendi con famiglie addosso ma il problema più grave che ci facciamo noi è quello dei nostri ragazzi che per 29 anni hanno vissuto con noi. Grazie a tutti.